Ciao amici Mister Gadget, siamo pronti a presentare una novità per il mercato italiano in circolazione già da un po' all'estero arriva anche da noi Xiaomi Redmi Note 5 Quello che vedete dunque è un prodotto che porta con sé un marchio famosissimo in giro per il mondo che finalmente arriva anche in Italia non tutti i prodotti saranno presenti nel nostro mercato ma insomma una buona quantità perché Xiaomi non è solo smartphone Per ora apriamo dunque la confezione di questo Redmi Note 5 non bisogna confondere con il Redmi Note 5 Pro che ha caratteristiche leggermente diverse sul telefono otteniamo dopo, nella confezione carica batterie in versione Quick Charge 2.0 e poi il cavo per la ricarica, anche questo con una tecnologia leggermente arretrata perché c'è il connettore micro USB anziché USB Type-C Nella confezione, altra cosa da ricordare, la cover in silicone trasparente che secondo me è sempre una soluzione molto comoda per la protezione del proprio smartphone E lo smartphone com'è? Beh, eccolo qui, vediamolo insieme nelle sue caratteristiche principali Per guardare Xiaomi Redmi Note 5, bisogna tutte le volte fare attenzione a non sbagliare una sigla di Xiaomi bisogna guardare il display da 5,9 pollici di diagonale, 77,4% l'occupazione del display rispetto alla superficie totale del telefono 403 pixel per pollice con una definizione Full HD+, perché questo è un telefono in versione 18-9 Sulla parte posteriore, doppio sensore fotografico da 12 e da 5 megapixel e poi il sensore delle impronte digitali Sulla parte inferiore, connettore, come detto, micro USB, altoparlante e poi l'attacco per le cuffie da 3 mm e mezzo Sensore per gli infrarossi Nella parte superiore, il cassettino, che è un cassettino Hybrid Tray Quindi un cassettino ibrido con una SIM e una micro SD Oppure due SIM inserite Che cos'altro vi posso mostrare? La fotocamera anteriore da 13 megapixel E sull'altro lato, oltre al pulsante di accensione del telefono Anche il controllo del volume, che lo sapete, insomma, per noi di Mr. Gadget Si chiama Volume Rocker Un telefono con un aspetto, tutto sommato, magari non super originale Però, insomma, in ogni caso molto gradevole Dovendo guardare il telefono da vicino, credo che una delle cose fondamentali Sia vedere la personalizzazione La MIUI In sua versione numero 9 Quella cioè con Android 8 a bordo Che vi presenta tantissime personalizzazioni Che potete utilizzare sul telefono Vedendo il menu Forse la prima personalizzazione che appare È quella del controllo della schermata Home Che potete scegliere di riempire automaticamente Tutte le volte che andate ad installare un'applicazione Un po' come succede con Huawei E poi il display a schermo intero Cioè potete scegliere di togliere i tasti a schermo E vedete di utilizzare le gestures Con un movimento dal basso che poi si ferma Andate alle varie applicazioni Con un movimento, quando siete in un menu già avanzato Con un movimento di questo genere Vedete, andate indietro Nell'utilizzo del telefono Ripeto, in questo modo aprite il multitasking E invece con un movimento dal basso verso l'alto Riuscite essenzialmente ad andare alla Home Io torno un attimo da questa parte Per andare a ripescare il telefono Tengo per ora i tasti funzione Perché mi serviranno per farvi vedere un'altra cosa importante Infatti l'altra cosa importante è il fatto che ci siano tantissime gestures Che voi potete utilizzare Quindi tanti movimenti delle mani sul telefono O combinazioni di tasto di utilizzo prolungato dei tasti Anche quelli fisici Quindi vi faccio vedere un esempio Io premendo due volte il tasto di accensione Forse ce la faccio Premendo due volte il tasto di accensione Ecco l'avete visto adesso Ho essenzialmente attivato la fotocamera Sensore con le impronte digitali molto veloce Davvero molto veloce nel suo utilizzo E poi vedete che l'interfaccia base è questa Senza ulteriori cassettini Torno per un attimo al multitasking Per farvi vedere un'altra cosa importante Cioè il fatto che vi possiate gestire un secondo spazio sul telefono In pratica è come se voi poteste aprire una partizione sul telefono Creare una copia del vostro smartphone E magari utilizzare questo tipo di secondo spazio Per inserire ad esempio le vostre applicazioni di lavoro O magari nascondere alcune applicazioni Che non vedete, non volete che altri vedano Che voi utilizzate Importante questa bolla delle app Questa può sostituire i tasti funzione Perché vedete che insomma il funzionamento è lo stesso Potete metterla dove volete Lungo il display E all'occorrenza Vedete sostituisce Quelli che sono i movimenti del display Quando volete potete anche Nasconderla lateralmente E richiamarle insomma all'occorrenza Per gestire il telefono È una funzionalità ad esempio Che abbiamo visto in Huawei Su molti dei loro telefoni Applicazioni aggiuntive Poi ad esempio c'è impostazioni aggiuntive Ce ne sono tantissime La Quick Ball Le scorciatoie dei tasti con i gesti La gestione del LED di notifica Potete veramente fare un sacco di attività Per personalizzare il vostro smartphone E renderlo a vostra immagine e somigliante Se vogliamo vedere da vicino L'interfaccia anche della fotocamera Vedete essenzialmente una fotocamera Con una modalità di utilizzo Che già ben conosciamo Con questo menu orizzontale Che potete utilizzare Per controllare le varie funzionalità del telefono Compresa quella ritratto Per avere un effetto bokeh Sulla parte superiore del telefono Trovate un menu contestuale Che cambia A seconda del punto in cui voi siete All'interno del telefono Per mostrarvi il funzionamento delle foto Adesso avvicino un attimo un soggetto Faccio uno scatto Vedete quanto veloce sia stata L'apparizione dell'immagine Direttamente nella parte di galleria del telefono Gli scatti fotografici sono discreti Quando c'è molta luce Si fa un po' di fatica invece A catturare delle buone foto Quando c'è poca luminosità Questo nonostante i due sensori Quello da 12 megapixel con l'apertura 1.9 E il sensore da 5 megapixel Invece con l'apertura 2.0 E tra l'altro con dei pixel anche maggiorati Sulla parte frontale Invece avete la fotocamera Con 13 megapixel Con apertura 2.0 E in grado di fare video a 1080 pixel Diciamo che la qualità è così così Un altro dettaglio che voglio farvi sentire Di questo oggetto È l'audio Sentirete probabilmente che l'audio è altissimo Un volume molto alto Non è definitissimo Se volete ascoltare musica Forse non sarà un'esperienza straordinaria Ma se la vostra intenzione è quella Di fare chiamate in viva voce Avrete sicuramente il volume adeguato Sottolineo un dettaglio molto importante Questo telefono ha una buona ricezione Sia in wifi che per il segnale telefonico Un buon livello audio in capsula Quando effettuate le chiamate Valori SAR Molti di voi me li chiedono 0,79 alla testa 1,03 al corpo Qui c'è il bluetooth 5.0 C'è la 2DP Ovviamente per lo streaming musicali in stereo C'è la radio FM al suo interno E c'è una batteria da 4000 mAh Che secondo me svolge molto bene il suo lavoro Anzi bisogna dire che l'autonomia è veramente un punto di forza Molto molto interessante Ecco mancano alcune novità in questo telefono Che ha uno Snapdragon 636 al suo interno Che c'è in due versioni Da 3 e 4 giga di RAM Da 32 e da 64 giga di memoria Ecco forse quello che manca Quick Charge in una versione più avanzata E probabilmente anche come detto Il connettore Perché uno USB Type-C sarebbe stato gradito A metà del 2018 Insomma Intorno ai 190-200 euro La versione da 3 giga di RAM E 32 giga di memoria Tra i 230 e i 260 La versione con 4 giga di RAM E 64 giga di memoria Non è una novità assoluta Ma insomma introduce Xiaomi nel nostro paese Credo che sia importante soprattutto per quello Ma la domanda è A voi piace?